c'è ancora il tizio c'è ancora il tizio c'è ancora il tizio c'è ancora il tizio è fuori che vuole no 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 ha buttato lo stick c'è è illuminato fuori è ammazzato amaro non mi servono a mano è entrato nel senuto no 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 lo zombie picchialo picchialo meno meno come è svenuto lo vedo davanti che ha acceso la luce è venuto si fa a sinistra il tipo no no è qua davanti c'è la luce è quella si vede un cazzo non si vede scappando via ma è morto ma è scappato via non so dove non lo fa di turno davanti ai erano insieme questi cioè c'era c'era un altro qua con la mazza sta venendo verso di me si si schizzo si amava questo questo sei tu questo va guarda questo guarda avanti con la mazza lo stronzo prendiamo le munizioni le munizioni avevano bombo andiamoci andiamo c'è non ho sparato un botto aspetta mi no no andiamo arrivano un bot di arriverà qualcun altro fidati vieni tanto non c'è niente non so dove sei andando ha detto vediamo c'è questa zona lascia